Oggi dopo la pausa delle feste hanno riaperto tutte le scuole e i bambini di 5 classi della primaria di Cavola di Toano, che fa parte dell'istituto comprensivo Ugo Foscolo, hanno potuto tornare a scuola nelle nuove aule ricavate all'interno della storica sede. La stiamo vedendo della BCC Cavola e Sassuolo, oggi Emil Banca. Con il plesso scolastico di Cavola inagibile l'istituto Foscolo non aveva aule sufficienti per ospitare tutti gli alunni e così grazie all'impegno del locale Comitato Soci Emil Banca al primo piano della sede di Via Verdi sono state ricavate le aule che ospitano 81 alunni delle elementari della frazione toanese. I rinnovati spazi sono stati inaugurati questa mattina, presenti ovviamente insieme ai bambini, i rappresentanti dei genitori, il sindaco di Toano Vincenzo Volpi, la dirigente scolastica Silvia Razzoli e i vertici di Emil Banca. Stiamo proprio vedendo le immagini dell'inaugurazione delle nuove aule della primaria di Cavola di Toano.